Lorenzo Stahiti al termine di Bassano fra Pissalò 1 a 2 il tuo gol ha permesso di vincere questa partita tre punti importantissimi per te anche un gol dell'ex Sì, sono molto contento perché mi mancava un po' fare i gol e sono contento di averlo trovato in un momento importante che ha permesso alla squadra di portare a casa questi tre punti e quindi sì, sono molto contento La vittoria che permette di guardare con ottimismo dopo il passo falso di mercoledì quella fermana era importante vincere e riscattarsi oggi Sì, volevamo dare un segnale importante per far capire che comunque ritrovi la continuità che non era un caso, insomma quegli otto risultati utili e che la partita con la fermana è stata solamente un passo falso quindi credo che ci siamo riusciti perché è stata una partita dove abbiamo creato tantissimo e credo che abbiamo meritato la vittoria